Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Aristeia, gioco dell'editore Corvus Belli, che io colgo l'occasione per ringraziare di cuore per averci offerto una copia per la recensione ed è la prima nostra collaborazione. Quindi spero ovviamente che possa durare, grazie veramente di cuore, è un onore collaborare con voi anche perché, ora poi ve li farò vedere, ci hanno mandato il press kit, oltre alla scatola del gioco, ma la PR, Belen, mi ha mandato addirittura una lettera, che poi tra l'altro c'è una spilletta, degli adesivi dentro da attaccare, proprio una lettera dove mi ringraziano, e mi hanno mandato altra roba qua giù, più due personaggi del gioco aggiuntivi. Ma vi faccio vedere tutto dopo la sigla. Aristeia è un gioco per due giocatori, quindi non si può giocare di più almeno per ora con le regole che ci sono dentro la scatola, quindi due schieramenti, due squadre, dai 14 anni in su della durata di 60-90 minuti, quindi è un gioco anche abbastanza veloce, secondo me 90 minuti è proprio le prime volte che giochi, ma è difficile, secondo me dura molto di meno una partita, ed è un gioco ambientato nel futuro, dove praticamente l'essere umano ha colonizzato le stelle, ha colonizzato l'intera galassia, e ci sono avamposte i pianeti ovunque, e per divertire le persone di tutte queste colonie, appunto sui nuovi pianeti e sistemi solari, hanno inventato questo gioco che appunto è Aristeia. In questo show televisivo vedono da una parte schierata una squadra e un'altra squadra che si vanno a combattere, dove ovviamente il tasso di ferite gravi, mortalità è alto, però siamo comunque in un'ambientazione cyberpunk, laddove anche se uno dovesse subire un'apputazione di un arto, glielo rimettono cibernetico o qualcosa del genere, quindi è un gioco, uno show televisivo per fare appunto divertire la gente, e sono chiamati in campo dei campioni che ricordano un po', questo gioco viene appellato come un MOBA della Corvus Bellis, secondo me è più un Overwatch, sinceramente, perché le meccaniche del MOBA forse non ce l'ha tantissimo, me lo vedo più come un Overwatch, anche perché ritroviamo eroi, c'è l'eroe tank, l'eroe DPS, l'eroe stealth, l'eroe DPS però a distanza, l'eroe di supporto, ed è un gioco veramente, veramente molto interessante, un gioco ovviamente puramente PvP di combattimenti, e vi faccio vedere come funziona dopo l'unboxing. La confezione del gioco, bella, grande, c'è tanta roba, colorata, mi garba anche lo stile, vediamo qui c'è un panda da battaglia, che ricorda un pochino anche i po' di Kung Fu Panda, poi vediamo un guerriero con lo scudo qui davanti, il classico tank, un DPS che è Miyamoto Musashi, un DPS a distanza, supporto e tutti gli altri personaggi che sono presenti nella scatola base, tra l'altro colorata bene, molto 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 caratteristica, e prima di aprirla vi faccio vedere che mi hanno mandato questa busta, con sopra scritto Coridan, che all'interno, a parte la spila d'inta, all'interno ci sono un bel po' di adesivi, che ora non vi sto a tirare fuori tutti, comunque ce n'è veramente un bel po', che sono ovviamente gli adesivi del gioco, delle varie bande e cose del gioco, in più vedete il biglietto da visita del direttore marketing appunto della Corbus Belli, e all'interno di questa busta qui una letterina, che addirittura mi hanno scritto anche grazie mille in italiano, che mi ringrazia per avergli fatto appunto la recensione, aver provato il gioco e si augurano che mi piacerà, e con la firma in fondo, tutto quanto, è una cosa che ho pensato da morire, perché è una piccolezza, però ti fa capire insomma che ci tengono particolarmente tanto alla stampa. All'interno della scatola andiamo ad aprire, troviamo il regolamento di gioco, che è veramente fatta a striscetta larga, un po' come Monster Slaughter in quello stile lì, e è pieno zeppo di esempi, è pieno zeppo di figure, e soprattutto ragazzi le regole sono veramente facili, ed è bellino perché le regole te le spiega come fosse una partita, ti fa vedere tutti i round e ti descrive cosa fanno i personaggi, personaggi che sono prettamente differenti l'uno dall'altro, quindi perlomeno ti fa vedere come utilizzarli tutti quanti, è veramente facile ragazzi, basta leggere una volta. Manuale d'ambientazione, i disegni sono bellissimi, manuale d'ambientazione, qui non trovate regole, però c'è tutta l'ambientazione del gioco, perché uno dice, oh è una cosa importante secondo me l'ambientazione, ti ci fa calare molto di più in questo gioco televisivo, e poi tra l'altro ci sono tutti quanti i background dei personaggi, i disegni sono veramente da paura. Outrage che è un manga ispirato appunto da Infinity Universe, dalla loro ambientazione, e qua giù dietro invece fa vedere la season 1 per Aristeia. Tabellone di gioco, che tanto ora a breve vi faccio vedere aperto, planche di giocatori sono due, tanto ovviamente le squadre sono sempre quelle, con l'ordine di turni per come userete i personaggi, l'infermeria dove finiranno i vostri personaggi feriti, e qui invece le dovete mettere prima di rientrare in campo, è la panchina. Tutti quanti i token per i punti ferita, come vedete i cuoricini qua giù in fondo, i token dei vostri personaggi per metterli appunto sulla scheda per ricordarci che sono in infermeria, in panchina e cose del genere, ostacoli da mettere sulla mappa, malus, vari adesivi, una piccola reference, che è praticamente un sommario delle regole, mazzetto piccolo con le carte per l'iniziativa, da mettere nelle plancette che vi ho fatto vedere prima, carte vere e proprie, che sono le carte dei personaggi, le carte tattica e quant'altro, una bella busta piena zeppa con tutti i dadi del gioco, in vari colori, e una bustina con i personaggi, ve ne faccio vedere un paio dentro, la qualità ovviamente è spettacolare, questo è Musashi, è un DPS da corpo a corpo, questo invece è 8Ball, un tank da corpo a corpo, mi hanno mandato il loro press kit, con tutti quanti i loro giochi, ragazzi date un'occhiata assolutamente al gioco Infinity, guardate che miniature che c'ha dentro, che è il loro skirmish game, il loro war game, i loro giochi principali sono, Warcrow, che è un gioco del 2001, Infinity che ve l'ho detto, il war game del 2005, Operation Ice Storm, che è un'altra scatola per Infinity, guardate là con uno scenario completo, Aristeia, quello che vi sto presentando, e il loro prossimo gioco, 2019 ma non dovrebbe ancora essere uscito, perché hanno finito il Kickstarter, è appunto Defiance, il loro primo dungeon crawler, e la scatola con i due personaggi alternativi, che ci hanno mandati, ve li faccio vedere, però ovviamente con questi personaggi, poi farò un gameplay più avanti, dentro una scatolina, ovviamente anche per loro i token, i punti ferita, il mazzo con le carte, il piccolo mazzetto con l'iniziativa, e le miniature qua dentro, dentro la bustina. Questa è la plancetta di un giocatore, questa è verde, quella dell'altro giocatore arancione, il giocatore si è preparato una squadra, perché all'inizio ovviamente bisogna dividere due squadre, ciascun giocatore deve sempre avere quattro personaggi, quindi in questo caso, questa squadra qui abbiamo scelto, Miyamoto Musashi, il Major Luna, Exer, e Gata, che poi sono i personaggi che ora a breve vi farò vedere sul tabellone, queste sono le loro carte iniziativa, quindi vedete ad esempio che Musashi, ha un valore di iniziativa di 6, che è segnato qui, e gli altri personaggi vanno a scalare, questo qui ce l'ha più alto di tutti, Gata. Quando inizia il turno, prima del primo turno, perché la partita si svolge in quattro turni di gioco, poi vince ovviamente la squadra che ha fatto più punti, e ogni turno è diviso in quattro sottoturni, dove dovete muovere i personaggi, banale dirvi che in ordine di iniziativa le andate a mettere per come le volete usare, quindi se qui metto Musashi lo muoverò per primo, però se voglio giocare per primo l'iniziativa cercherò di metterci qualcuno con iniziativa particolarmente alta, quindi la metto qui in coperta, poi magari Musashi lo metto per secondo, questo per terzo, e questo per quarto, e il mio avversario di là farà la stessa identica cosa. Vi ricordo che questa è l'infermeria, che ci vanno i vostri personaggi feriti, praticamente quando un personaggio è ferito, prendete il suo token e ce l'andate a mettere sopra, e quando passerà il turno, al turno successivo, andrà alla panchina, e dalla panchina potrà tornare in gioco, ma con un malus di meno 2 all'energia. Queste sono le carte dei personaggi, che ci hanno segnati vari valori, che sono iniziativa, movimento, azioni che possono fare, cioè potenziale, stamina, chiamiamola così, difesa, questo colpugno che sembrerebbe l'attacco, è invece il valore di forza per sottrarsi a una presa, quindi se siete in corpo a corpo con qualcuno potete provare un tiro, e questo sotto è l'agilità per fare altre prove. Poi sotto avete segnati i tipi di azioni che possono fare i vostri personaggi, quindi il tipo di attacco che può fare lui è questo qui, e vedete accanto c'è un valore, costa 3, più tutte le altre cose che si possono sbloccare, a seconda del risultato che farete con i dadi. Quest'altro personaggio, tipo Exer, vedete ha una mossa da 2, e una mossa da 1, questo invece ha una mossa da 1, e una mossa da 0, insomma quelli che vedete accanto sono i costi. Banale dirvi che quando ha, quelle che vedete sotto sono sempre applicabili, quando ovviamente la condizione si va a presentare, e ogni volta che muovete il vostro personaggio, il vostro personaggio si muove del valore di movimento che ci è segnato qua sopra. In più c'è il mazzo carte tattica, questo qui è diviso, ci sono le carte di ciascun personaggio, ovviamente deve essere coperto, quindi dividetelo, date le carte di questi personaggi a questa squadra, le carte degli altri personaggi all'altra squadra, la squadra B, e ne dovete andare a pescare 4. Di queste 4 carte tattica ne dovete pescare 4, e poi le potete giocare nei turni quando ovviamente la condizione è dichiarata sulla carta, quindi nel momento che è dichiarato ci sono tutte quante le carte dei personaggi, perché non è soltanto darsi botte, qui ad esempio vedete una carta di Musashi, ma anche a volte usare la carta nel momento giusto per salvarsi la pellaccia. Abbiamo diviso una squadra da questa parte, e la squadra di cui vi ho fatto vedere la plancia da questa parte di qua. zone di partenza, queste qui che sono numerate, quindi dovete farle partire sempre in questa zona rossa, queste zone con lucchetto sono zone invalicabili che dividono il campo, ma anche zone che bloccano la visuale, quindi la visuale non può passare attraverso, e in più nei setup delle varie mappe, anche a scelta di giocatori alla fin fine mettetevi d'accordo, potete mettere questi segnalini qua giù, che invece sono ostacoli. Questi ostacoli qua ti bloccano la visuale, però è possibile anche passarci attraverso. Mettiamo caso nel primo turno la squadra A, quindi quella di colore verde che vi ho fatto vedere la plancia, ha scelto di muovere lei, che è questo personaggio qua giù, mentre la squadra avversaria decide di muovere Wild Bill, che è questo pistolero qua giù in fondo. Lei è un eroe da corpo a corpo, Wild Bill è un eroe a distanza. Lei ha un valore di iniziativa di 7, Wild Bill di 6, i giocatori non lo sapevano chi mettevano in campo, l'avversario che avrebbe messo per muovere prima, quindi iniziativa più alta, lei muoverà per prima e Wild Bill per secondo. Ah, ovviamente mi ero dimenticato che i valori in alto a destra, qua su, sono i punti ferita. Wild Bill ne ha 4, lei ne ha soltanto 2, quindi subisce due ferite fuori dalla battaglia. e le distanze degli attacchi. Lei è una da corpo a corpo, a distanza agitata 1-1, quindi minima e massima. Lui, ovviamente, essendo un gunslinger, un pistolero, agitata 2-6. L'agitata, ovviamente, si calcola sempre distanza da un personaggio a un altro, quindi 1-2-3-4, contate gli esagoni, quindi nel caso potrebbe tirare su di lei. Però, quando andate a attaccare un personaggio, sia chiaro, i personaggi, la linea di visuale, il fronte è a 360, e quindi possono vedere anche le spalle, non è che non hanno visuale se sono girate da un'altra parte. Dovete tirare due linee immaginarie da un punto fino a un altro punto del vostro avversario. E ci sono tre tipi di visuali. La prima è una visuale pulita, la seconda è una visuale disturbata, e la terza è tutta interrotta. Visuale pulita, lei è qui, quindi lui va a tracciare da un punto dove gli pare. Mettiamo da quest'angolo qui due linee immaginarie, una va qui. Lo vede il primo fronte? Sì. Se andasse qua, lo vedrebbe? Sì. Dietro sì, e dietro sì. Se riesce a vedere tutti i punti dell'esagono della miniatura, vuol dire che ha un tiro libero, quindi tira senza nessun tipo di malus. Se invece la figura fosse stata qua giù, lo vedeva tracciando due linee? Sì. Qui al lato? Sì. Qua giù dietro? Sì. Però qui all'angolo? No. Perché vedete, tracciando delle righe così, per andare su un punto sarebbe passato su una casella con l'ucchetto. Quindi volevo dire una visuale non interrotta ma comunque disturbata da un elemento scenico che c'era accanto e quindi il personaggio di qua aveva diritto a uno scudo in più sul tiro dei dadi che ora vi faccio vedere come funziona. Se fosse stata qua dietro ovviamente non ci arriva perché è dietro l'elemento scenico quindi non poteva assolutamente sparargli. Quando si va a fare il turno si vede il valore di movimento dei personaggi che sono segnati sulla scheda quindi in caso lei c'ha 5 potrebbe andargli direttamente in corpo a corpo perché muove per prima. Quando muove per prima deve decidere di fare un attacco. Ci sono anche dei bonus qua sotto perché oltre all'attacco ti potrebbe stunnare oltre all'attacco ti potrebbe spingere all'indietro. Infatti uno degli effetti più importanti di questo gioco è quello di spingere via l'avversario. Quando si presenta all'occasione ed è soddisfatto il requisito che è scritto sulla carta è possibile spingere indietro o anche di lato insomma di una casella un personaggio quindi comunque è una cosa molto importante perché si fanno retrocedere tanti avversari ma soprattutto la maggior parte delle partite quando entrate in questa zona qui centrale si guadagnano punti entrando in questa zona e liberandola da tutti i nemici che sono presenti quindi se in questa zona qui si riesce a liberare dalla squadra avversaria e ci rimane solo il tuo personaggio a fine del turno non a fine del turno del personaggio ma proprio a fine del round di gioco guadagnerete dei punti quindi nella maggior parte di casa è tutta una guerra a picchiarsi e a prendere il centro quando si va a fare un attacco in corpo a corpo come detto si guarda quello che c'è sulla scheda quindi lei in corpo a corpo vedete l'attacco le costa 1 anche perché in attacco un po' di boluccio e si va a tirare un dado arancione e un dado giallo dadi se ne può tirare quanti ne volete anche i 10 solo mai più di 3 dello stesso colore quindi lei va a tirare i suoi dadi e sono usciti questi simboli un punto esclamativo e uno scudo wild bill di difesa invece tira un verde e un blu quindi va a tirare questi due dadi perché ovviamente anche i nemici hanno diritto a difendersi in un primo non ha fatto niente nel secondo ha fatto una x un colpito un simbolo di colpito e uno scudo allora i simboli sono colpito normale scudo normale quindi il colpito normale viene annullato dallo scudo normale un colpito speciale che viene annullato da uno scudo speciale che è un altro simbolino con lo scudo come questo solo con questo contornetto intorno negli attacchi normali un punto esclamativo che attiva un'abilità speciale sulla scheda tipo wild bill se fa tre punti esclamativi può applicare la condizione che c'è qui sotto un colpito critico vale come due colpito normale in caso di prove una difesa critica vale come due difese nel caso di attivare un'altra abilità quando vi viene fuori una difesa critica che ripeto è lo scudo normale con queste lineette alati potete direttamente togliere un dado al vostro avversario e scegliete voi quale in questo caso qui comunque vedete che per attivare la sua abilità lei aveva bisogno perché questi sono i dadi di wild bill e questi di lei lei avrebbe avuto bisogno di almeno un colpito un simbolo del genere ma non avendolo fatto cosa attiva qualcosa col punto esclamativo no perché vedete che anche queste cose che ha scritto qua giù sopra che vanno applicate prima di ogni altra mossa quindi se volete applicare le cose col punto esclamativo dovete dichiararlo e farle prima di qualsiasi altro attacco però lei non c'ha niente perché anzi queste qui chiedevano due punti esclamativi e la difesa attiva qualcosa no a lei le serviva un colpito quindi wild bill ha comunque facoltà di difendersi perché è un gioco dinamico quando voi attaccate fate punti ferita ma il vostro avversario non è solo che si difende magari vi fa delle ferite anche indietro perché in questo caso qui lei ha fatto questi due simboli e non ha ferito wild bill invece avendo tirato un colpito potrebbe andare a applicare qualcosa e potrebbe andare a applicare un danno oltretutto con gli altri valori che ci sono sopra ha attivato qualcosa con lo scudo no e con questo non ha fatto niente quindi lei alla fin fine non ha ferito wild bill wild bill di rimando gli fa una ferita però che lei questa ferita normale annulla col suo dado normale e le meccaniche del gioco ragazzi sono tutte qua poi ci vengono incontro come vi ho detto il tiro di agilità che è per muoverci sono delle regole speciali o il tiro di presa praticamente wild bill come tiro di presa ha un blu e lei come tiro invece di presa ha un giallo si va a fare il tiro per vedere se uno riesce a scappare quindi giocatore A tirerà la propria agilità giocatore B tirerà la propria presa e chi farà più risultati se wild bill vince la tiene bloccata se invece vince lei potrà scappare e andare via la cosa importante in questo gioco è il turno dell'iniziativa sulle schede quindi i vostri personaggi si andranno sempre sempre a muovere per l'ordine di iniziativa che gli avete dato qua sopra quindi questo sarà il secondo Musashi questo sarà il terzo e questo sarà il quarto se volete agire per primi mettete ovviamente nei primi due quelli con l'iniziativa più alta ad esempio lei come vi ho fatto vedere o anche Musashi però ricordatevi sempre che dalla parte di là non sapete non soltanto il valore di iniziativa delle carte che ha scelto il vostro avversario ma non sapete nemmeno chi è andata a fronteggiare perché magari voi dite ok ora si potrebbe muovere il pistolero e quindi dell'unità avversaria io ho bisogno di muovere un tank per andarla a contrastare però non sai dove l'ha messo in ordine di iniziativa magari ti viene fuori Musashi quindi un DPS da corpo a corpo a distanza 10 da un pistolero che prima di arrivare in corpo a corpo ce ne vuole e lui nel frattempo ti spara quindi anche un gioco alla fin fine di cercare di andare a scoprire le mosse che vuole fare il vostro avversario e poi ci vengono i incontri tutti quanti i token che vi ho detto precedentemente con tutti gli status ovviamente che possono essere applicati e i cuoricini che sono i punti ferita quando un personaggio viene rimosso dalla partita perché subisce abbastanza ferita da metterlo a knockout il personaggio finisce in infermeria e l'infermeria è questa qua giù prendete la pedina in questo caso qui continua a usare Musashi e la mettete direttamente in infermeria qua giù quindi non è più sul campo di battaglia turno successivo giocate tutte le carte che sono qui turno dopo andate ovviamente a rifresciare le carte dovete ricomporre la vostra il vostro ordine di iniziativa e le pedine in infermeria si spostano direttamente in panchina e dalla panchina rientrano nel campo di battaglia e devono rientrare ovviamente in una zona di spawn non è che li potete far spawnare dove vi pare però ricordatevi che entrano con un meno 2 ad energia e in questo gioco ciascun personaggio ha il suo valore di energia che è questo segnato qua giù e ogni azione che andrà a fare a parte il movimento ogni azione che andrà a fare avrà sempre un costo e dei prerequisiti che ricordatevi quelli col punto esclamativo vanno sempre applicati prima di fare qualsiasi altra cosa quindi se non li applicate subito dopo aver tirato i vostri dadi non li potete più utilizzare e i dadi del gioco sono quelli colorati sono tutti questi qua giù ed è sempre andare a fare un tiro ricordandosi che colpito normale scudo normale due scudi normali poi possono esserci anche due colpiti normali oppure un colpito uno scudo e un punto esclamativo e poi ci vengono incontro lo scudo quello speciale che questo scudo speciale toglie proprio un dado quindi potete scegliere un dado del vostro avversario e toglierlo e una ferita critica che può essere parata solo da uno scudo critico queste sono tutte quante le regole del gioco ragazzi è tutta una battaglia per arrivare al centro del campo di battaglia e quando finisce il turno si va a contare chi ha la supremazia oppure ovviamente se siete riusciti a picchiare a buttare fuori campo a spostare indietro oppure a buttare in infermeria i vostri avversari e rimanere soltanto voi all'interno del cerchio guadagnerete uno sbotto di punti dopo 4 turni di gioco si va a fare il punteggio finale ragazzi ovviamente non ve lo fate vedere perché non vi voglio fare un tutorial ma ci sono anche tutte quante le carte tattica che ciascuno avrà sempre in mano ciascuno di voi avrà sempre 4 carte per rifresciare la mano che vi danno ovviamente un potenziale immensamente più grande come avete visto poi ovviamente al solito non voglio fare tutorial ripeto è una veloce infarinatura il gioco è molto veloce il gioco è semplice c'ha un pochino di regolette da tenere a mente però tutto quello di cui avete bisogno c'è scritto sulle schede dei personaggi quindi non vi potete sbagliare e soprattutto vi dovete ricordare l'utilità dei dadi quello va a fare quello quello va a togliere quello ma comunque come tipo di gioco è molto semplice meno male l'hanno dovuto tenere leggero anche perché se no da 60 a 90 minuti si passava a più di 3-4 ore e non è assolutamente quello che voleva un gioco del genere ricordo che se lo volete acquistare andate direttamente lo vedete in sovraimpressione e nel primo link in descrizione sul sito Borgamediscount dove potrete ordinare i vostri giochi di ruolo e i vostri giochi da tavolo e pagarli tutti insieme con carta oppure anche Paypal oppure pagarli anche a rate dunque mi raccomando per i vostri acquisti andate sempre a cliccare il primo link in descrizione che non potete trovare assolutamente prezzi migliori sul mercato se devo dare un voto ad Aristeia li do assolutamente un 9 su 10 meritatissimo mi piace da morire come idea e ve l'ho detto poi magari sarà una visione mia personale lo vedo più come un overwatch che a me e mia moglie è il nostro sparatutto preferito competitivo che non un MOBA mi sta piacendo veramente tanto mi piacerebbe avere tutti gli altri personaggi che sono presenti nel gioco perché anche per provare più strategie o anche per non mettere in campo sempre la solita squadra anche se già nella scatola di base ce n'è abbastanza per giocare mesi e mesi e mesi ed è veramente bellino e divertente è un gioco molto 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 competitivo ha una componentistica impeccabile ha delle miniature bellissime ricordo che la Corvus Belli sono quelli del gioco Infinity battaglie tipo skirmish in stile Warhammer 40.000 o cose del genere e stanno facendo anche il loro primo dungeon crawler nella stessa ambientazione di Aristeia che per l'ambientazione è la stessa di tutti i loro giochi che si chiamerà Defiance e sarà un dungeon crawler spaziale a bordo di una nave quindi appunto della nave Defiance quindi non vedo l'ora di provarlo io ancora una volta ringrazio la Corvus Belli per avermi offerto tutte queste cose grazie di cuore soprattutto la cosa più importante di aver creduto in me che veramente mi riempie d'orgoglio e di onore grazie Belen per tutte le cose che mi ha inviato e ragazzi primo link in descrizione dove acquistarlo più tutti quanti i nostri social a seguire fatemi sapere con un commento cosa ne pensate ciao alla prossima grazie a tutti